Carissimi amici, salve. Sulla scia delle conferenze antroposofiche da me tenute presso la libreria Cavour pervengono frequenti richieste di indicazioni pratiche verso un percorso personale di sviluppo interiore secondo le indicazioni di Ludolf Steiner. Conseguentemente si è deciso di proporre un incontro perugino articolato su due sessioni. La prima finalizzata a individuare i compiti più urgenti dell'antroposofia nella nostra società. La seconda a delineare il menzionato percorso interiore di armonizzazione spirituale. Durante l'incontro sarò lieto di rispondere a domande pertinenti di carattere generale e personale. Mi auguro che pervenga un numero di adesioni sufficienti a realizzare l'iniziativa e che la programmazione corrisponda alle aspettative. Vi attendo tutti a Perugia. Un caro saluto.